Gelli, del terzo settore o del volontariato in generale si parla sempre più spesso ultimamente per problemi legati alla sicurezza, cioè come aiuto per risolvere o comunque affrontare questo problema. Sicurezza, parola sdoganata, adesso anche a sinistra la regione ha addirittura un assessorato ad hoc. Sono parole secondo lei o vede questa possibilità di sinergia sul tema? Ora non è per ribadire le cose che facevo io nel passato ma credo di essere stato il primo assessore alla sicurezza della giunta regionale nel 2005, quindi abbiamo fatto una politica della sicurezza che vuol dire integrazione, vuol dire comprensione dei cambiamenti sociali del territorio e soprattutto politiche di prevenzione, quindi se il tema rinnovato della sicurezza intesa come una sicurezza partecipata da parte delle organizzazioni di volontariato, certo è che c'è la disponibilità da parte nostra, ma la sicurezza in qualche modo si riesce a raggiungere anche attraverso una nuova politica di integrazione sociale. La sicurezza e l'insicurezza dei cittadini è legata spesso al degrado urbano, all'inefficienza della pubblica amministrazione, all'abbandono delle persone in condizioni di disagio. Ecco, queste sono le prime risposte da dare, poi c'è il fenomeno migratorio che è sbagliato collegarlo direttamente al tema della sicurezza, anche se esiste, in parte esiste in questo senso. Mi sembra che però il volontariato in Toscana abbia dato delle risposte interessanti, importanti a fianco delle istituzioni pubbliche, a fianco della regione, dei comuni, sia per affrontare il tema dei flussi migratori, sia per quanto riguarda il tema della coesione sociale e dell'attenzione ai minori e alle condizioni di svantaggio. Grazie.